Invece dovrete farmi i tappeti rossi che io vi apro 50 pizzerie in Italia del lavoro a 1000 persone e le pago più di 2000 euro al nese Intanto lei si tenga i 15.000 da parlamentare Ma no, ma fanno incazzare perché tutta la gente è contro l'impresa E tutta la gente è contro l'impresa Chiete contro tutto voi, dite sempre no a tutto